È fissato per oggi il primo trattamento di fecondazione eterologa con l'utilizzo di gameti maschili all'ospedale Fiorentino di Careggi, l'annuncio della stessa azienda ospedaliera universitaria dove avverrà il primo caso in Italia di fecondazione eterologa eseguito in una struttura sanitaria pubblica. La Toscana è stata la prima regione a muoversi dopo la sentenza della consulta che ha di fatto annullato il divieto della fecondazione eterologa contenuto nella legge 40. Il seme del donatore è stato prelevato in quantità limitata per poter effettuare non più di tre o quattro tentativi di fecondazione. A Careggi dove è nata un'apposita struttura dedicata all'eterologa si procede anche alla selezione dei donatori, un'operazione delicata che richiede non meno di 5 o 6 mesi. A Careggi sono già oltre mille provenienti da tutte le regioni italiane le coppie che hanno fatto richiesta per accedere al percorso di fecondazione eterologa. La maggior parte risiede in Toscana ma gli aspiranti genitori arrivano anche da Lazio, Lombardia, Campania e Puglia. Proprio per far fronte al gran numero di richieste dalla prossima settimana, l'attività ambulatoriale del Centro per l'infertilità di coppia dell'ospedale Fiorentino Careggi sarà incrementata grazie all'inserimento nello staff di un altro ginecologo. In questo modo si potranno eseguire 5 ambulatori a settimana che consentiranno di effettuare visite per 40 coppie a settimana. La nuova offerta ambulatoriale conta di ridurre di un anno le liste di attesa che ad oggi si attestano ai primi mesi del 2017. Ogni fecondazione assistita eterologa all'ASL costa circa 4.000 euro. All'assistito spetta il pagamento del ticket che è di 500 euro. Intanto è stata pubblicata nel bollettino della Regione Toscana la delibera relativa ai trattamenti di fecondazione. Sarà prevista nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza per le donne sotto i 43 anni con deroghe per particolari ragioni di carattere sanitario.